ciao con questo tutorial ti spiegherò come sentire sul tuo corpo il ritmo del secondo movimento della nona sinfonia di beethoven prima di tutto devi sapere che i primissimi suoni sono importantissimi perché sono gli stessi che si trovano nel primo movimento si trovano molte volte e lo caratterizzano sono due suoni uno è ripetuto diventano tre e sono uno qui uno qua e uno qua te li faccio sentire se poi gli mettiamo anche un ritmo sentirei che fanno proprio tantità tantità così tantità 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 dopo questi suoni si sente una musica che ha questa pulsazione ritmica questa pulsazione ritmica faceva proprio du de du de du de un pon 2 pon 2 du de du de du de du de ma siamo nel bosco possiamo pensare di fare dei passi fruscianti dei passi che tengono la pulsazione più lunga du 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 mettiamoli insieme avrai sentito anche dei suoni staccati che fanno ta 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o meglio tatatatatatatatata. E attenzione però perché all'inizio sentirai tantitatatatatatatatatat Nobodyhbob, notabili, totatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata. E poi va avanti, va avanti. Proviamo a rifare tutto insieme, avremo i tre suoni. Poi avremo immediatamente la pulsazione del tantita e poi ta 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 con piedi e mani. Tantita! 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 Proviamo con la musica? Tantita! 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 Buon divertimento! Ciao!